L'accordo è storico perché per la prima volta i 27 Paesi membri dell'Unione Europea hanno dato mandato alla Commissione di indebitarsi al loro nome per una somma enorme. 750 miliardi di euro a tanto ammonta il Fondo per la Ripresa che distribuirà fussidi per 390 miliardi e prestiti per 360 miliardi. All'Italia aspettano 209 miliardi ripartiti così, circa 82 miliardi sono a fondo perduto, mentre altri 127 miliardi sono prestiti e dunque da restituire ma a tassi molto bassi. L'Italia ottiene così anche un altro risultato importante, le misure di rilancio delle economie adottate dopo il 1 febbraio 2020 potranno essere rimborsate se rispettano i criteri, anche se il Recovery Fund entrerà in vigore solo nel 2021. Per ottenere questi soldi vanno presentati entro il 2021 alla Commissione Europea i progetti che si intendono finanziare. Nell'accordo siglato a Bruxelles poi viene sancita l'esistenza del cosiddetto superfreno di emergenza che permette a un solo Paese di bloccare tranche d'aiuti nei confronti di un altro Stato portando il caso al Consiglio Europeo.